E' giunta ieri sera, poco prima delle 18 a Gela, l'urna contenente il Corpo di San Paolo della Croce, fondatore dei missionari della Passione di Gesù Cristo e delle monache claustrali passioniste. L'iniziativa si svolge in occasione del centenario della presenza dei padri passionisti in Sicilia. L'evento ha coinvolto le città principali dell'isola e i luoghi dove sono presenti i padri passionisti. Subito dopo l'arrivo in Piazza Umberto I si svolta la solenne celebrazione eucaristica in Chiesa Madre, preseduta da Don Antonino Livoli, vicario generale della Diogesi di Piazza Almerina. Subito dopo c'è stata la processione con l'urna fino alla chiesa di Sant'Agostino e alle 21 è iniziata la veglia di preghiera animata dai missionari passionisti. I passionisti celebrano i cento anni di presenza qui in Sicilia e per questa motivazione si è deciso di organizzare questa peregrinazia del corpo del nostro fondatore in modo da poter far conoscere anche la sua spiritualità, la sua grandezza sia come uomo, di spirito e anche la grandezza umana. L'intuizione del nostro fondatore è stata quella di riproporre al popolo di Dio, alle persone, il grande amore che Dio ha avuto nei confronti di ciascuno di noi facendo memoria della passione di Gesù. E questa è la ragione per cui i passionisti vestono di nero e sulla loro tonaco indossano questo cuore che rappresenta proprio il cuore di Dio sormontato da una croce, simbolo del sacrificio che Dio, il figlio di Dio, ha fatto di se stesso. E questo è inciso sulle parole, la passione di Gesù Cristo, è ricordato con il simbolo dei chiodi. La visita delle reliquie di San Paolo della Croce per noi è un grande dono. Un dono che viene consegnato alla Chiesa Gelese perché possa sperimentare ancora una volta nella memoria della passione di Cristo l'amore che Dio ha avuto per noi. La sua presenza tra noi è garanzia allora di un memoriale più che di una memoria. Cioè è un qualcosa che si rinnova e che si ripete nel tempo e nell'occasione che noi siamo chiamati a vivere come stasera. Allora, celebrare stasera l'Eucaristia alla sua presenza e con noi, lui, significa avere la possibilità di rammentare al nostro cuore quanto Dio ha amato. Come ci dice Giovanni nel suo Vangelo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. L'urna con il corpo proveniente da Roma nel tardo pomeriggio di oggi raggiungerà Butera.